Ok ragazzi, quando sui social le calipette e le chinottine imperversano che cosa potrà mai andare storto? Il primo problema è che tu non ti rendi esattamente conto delle implicazioni di un intrattenimento di questo tipo fino a quando non senti qualcosa del genere E' schizzata? Dove non doveva schizzare? Cosa? Cosa esattamente schizzata? Anzi forse no, è meglio non saperlo Comunque, chinotto gasatissimo per il mio chinotto tour, sono molto contenta e molto accecata Ma si, si sente che sei molto eccitata, hai lo stesso mio entusiasmo di quando devo andare a fare un giro all'agenzia delle entrate E a proposito, lasciatelo dire, il tizio di spalle, semi-anonimo ma riconoscibile che aspetta il suo turno oppure che è appena usufruito del tuo servizio e un tocco di classe over the top Ora ragazzi, io trovo questo video inquietante per motivi che vanno ben oltre la poraccitudine della sceneggiatura e della scenografia Però voglio alzare la posta prima di parlare di questa cosa inquietante chiedendomi e chiedendovi Ma secondo voi, a parte l'avere un quoziente intellettivo verosimilmente inferiore ai 60 Quali sono i requisiti per partecipare a un tour del genere? Ve lo siete mai chiesti? Io sì E francamente, negli ultimi giorni, una calipetta, probabilmente il prototipo della calipetta che se non erro si chiama Ambra ci ha spiegato quali sono i suoi altissimi e rigidissimi standard Vediamo insieme la critica Persona che accetto nel calipo tour Allora, per fare il calipo tour servono determinati requisiti Vorrei dire stupiscici, ma sono abbastanza sicuro che lo farai sul serio Requisito numero uno Lo so, lo so, l'abbiamo studiato a scuola L'igiene Essere persone con la testa sulle spalle Sì, in effetti, le persone decapitate hanno difficoltà a fare certe cose No, no, brava, è un requisito fondamentale avere la testa attaccata alle spalle, sì Requisito numero due Essere persone rispettose Brava, picciotta, il rispetto è tutto Requisito numero tre L'igiene Essere persone educate Pensavo che questo requisito rientrasse nel rispetto perché se rispetti qualcuno ti devi comportare in modo educato con quel qualcuno Fondamentale Fondamentale Requisito molto molto importante avere il calipo Oh, finalmente eh! Avere il ghiacciolo bello lucidato, pulito e disinfettato Ghiacciato Ghiacciato Sciolto Non mi piace Non me ne faccio di niente Ok, ricordatevi di mettere il ghiacciolo in fresco, preferibilmente nel freezer, però non più di un 15-20 minuti perché poi penso che possiate riportare dei danni permanenti Altro requisito Altro requisito essere persone puntuali, ragazzi la puntualità conta sempre Giusto perché la signorina è evidentemente un'agenda molto fitta di impegni da rispettare Altro requisito essere persone comunque Oh, finalmente ci siamo! Essere persone pulite, che si lavano Tranquilla, non che se la tirano, queste cose qua perché a me non piace Ti giuro sarei davvero curioso di vederlo qualcuno che se la tira per partecipare a un'iniziativa del genere Ora, sarò prevenuto io, però tendenzialmente, secondo me, tutti quelli che ci partecipano sono, per così dire, introversi, ecco, molto introversi e tendenzialmente pseudo-sociopatici Perché senza offesa, se hai una vita di relazione normale, con delle interazioni normali, non vai a cacciarti in questi guai o in queste iniziative peculiari Hai già la tua vita, vivi quella Altro requisito essere persone serie La serietà è un'altra cosa fondamentale Cosa significa essere persone serie? Sono persone che stanno partecipando al tour, quindi non possono esserlo per definizione Diciamocelo, nessuna persona seria si presterebbe per qualcosa del genere Oltretutto pagando anche abbonamenti extra che sembrano vere e proprie parcelle Da quanto risulta, o perlomeno da quanto riferiscono alcuni sui social Poi magari si sbaglieranno Ma il concetto di fondo è che una persona seria non ha bisogno di fare queste cose E soprattutto per fare queste cose non ha necessità di comparire, anche se in forma anonima, nei tuoi video Si regola in maniera diversa, ripeto, dovrebbe avere una vita di relazione E anche se per mille mila motivi non riesci ad averla, esistono soluzioni decisamente più pratiche della tua E anche discrete della tua Perché se voi mi dite di sì, guarda, ci sono voi di partecipare Eh sì, non si cambia, è una scelta Eh capito, una volta che scegli di partecipare Tu partecipi E' un pochino come il Fight Club Una volta che entri nella gabbia, gambieggi e basta Non è che puoi dire ho cambiato idea Se me non dici sì, eh sì Oh, a proposito, giuridicamente parlando ci si può sempre tirare indietro fino all'ultimo secondo e anche oltre Principalmente per due motivi Primo, perché se ci fosse un accordo per una prestazione in questo senso sarebbe comunque nullo per contrarietà al buon costume E secondo, stiamo parlando di una libertà fondamentale E la libertà fondamentale consiste anche, sembrerà strano, nel rifiutare una cosa del genere Per cui eventualmente se cambi opinione ti puoi ritirare Poi magari ti beccherai della persona non seria, però non è una regola fondamentale È una regola sua e soltanto sua Essere maggiorenne, ok? Sì, questo è di importanza fondamentale Soprattutto se vuoi registrare video di un certo tipo Ora, non posso pronunciare il nome del reato Però, come facilmente intuibile, se tu registri video in cui ci sono minorenni che fanno, subiscono certe cose Verrebbe qualificato come immagine a sfondo di un certo tipo Assolutamente illegale Un reato che prevede condanne da tante tante mazzate sui denti Prima di poi infilartela da un'altra parte E' uno fra i reati più gravi che esistono nell'ordinamento italiano e probabilmente di tutte le società occidentali Ma naturalmente non sei tu minorenna a rischiare E' lei E potresti addirittura costituirti parte civile per chiederle i danni Che è abbastanza paradossale data la situazione Però, tecnicamente, così è Che me lo chiedete sempre Ma posso partecipare a 14 anni? No! Dovete essere maggiorenni Anche se avete 50 anni, 60, 70 Va bene, ho fatto anche un video con un 70enne Quindi, ragazzi, c'è un limite minimo di età Ma non c'è il limite superiore Quindi, se avete 70 anni, potete usufruire di questa irripetibile possibilità Che può essere fornita in modo molto più discreto da un grandissimo numero di operatrici del settore E quindi, se siete minorenni, ragazzi, aspettate, crescite bene che ripasso Sì, certo, tu ripasserai Ma magari i minorenni di oggi, quando diventeranno maggiorenni Troveranno qualcosa di meglio da fare Che stare a sognare te, a guardare i tuoi OnlyFans Tra l'altro, detto fra parentesi Lo stesso problema dei minorenni Dovrebbe presentarsi anche per gli abbonamenti Quindi, i minorenni non dovrebbero mai essere abbinati O abbonati, scusatemi Al tuo canale OnlyFans Ultimo requisito Avere voglia di fare Che è quello importante Ok, quindi L'ultimo requisito è la voglia di fare Igiene, controllo delle malattie, eccetera Sono meno di optional, mi pare di capire Ultima cosa Comunque Anche se siete fidanzati, sposati, divorziati, così Ragazzi, non è un problema? Sì, per te non è un problema Ma si è capito lontano un meglio Perché il video è anonimo Quindi Fate avanti Sì, sì La partecipazione è al 100% anonima E immagino che sia per questo Che il Bavaro è stato coinvolto in questo tour E si parla di lui e della sua presunta paternità Perché proprio, raga Anonimato garantito al 100% No, ragazzi, il 70enne non può essere Perché le date non combaciano per niente Per chi non la conoscesse o non l'avesse riconosciuta Lei è Polina o Paolina Qualcuno mi dice che io storpio il suo nome Perché è Paolina e non Polina o qualcosa del genere L'errore o l'equivoco nasce dal fatto Che a giudicare dal suo accento e da come parla Io pensavo fosse straniera e quindi il suo nome Non fosse esattamente all'italiana Non fosse da pronunciare all'italiana Comunque sia, per chi non avesse seguito le puntate precedenti Suggerisco di guardarle Perché è proprio roba su cui farsi una cultura Questa Accidenti quanto stiamo cadendo in basso Anche se è la rubrica di trash Ma lei sostanzialmente potrebbe essere La madre del figlio della figlia O di una coppia di gemelli Del dottor Bavaro I due si sono incontrati per questo tour Pare che il dottor Bavaro abbia fatto come suo solito Abbia strafatto come suo solito Perché il personaggio quello è Con entrambe le calippette E una delle due ci sia rimasta Ecco Si è scatenata la caccia al padre E lei ha detto pubblicamente Che il padre sarebbe lui Il Bavaro E naturalmente la community Ha iniziato a discutere Proprio con una maturità pari a quella del tour Circa la possibile paternità o meno Di una povera creatura innocente Che si trova già al centro Di un ciclone mediatico Da sostanzialmente social Che cosa brutta E qui in pratica Paolina sta spiegando Che non può assolutamente essere Un settantenne Il padre che evidentemente è stato ripreso E ha fatto una performance con lei Perché in pratica non coincidono assolutamente i tempi Io sono rimasta incinta ai primi di luglio Invece il video con il 70 Ne ho fatto il 10 settembre Sì insomma discute anche di questa cosa qui Con i suoi fans in maniera del tutto sportiva E' incommentabile praticamente Perché comunque abbiamo raggiunto un livello che è bassissimo Detto fra parentesi Settimana scorsa c'è stata pare anche una live Fra Paolina Ambra se non erro che è l'altra calipetta E il dottor Bavaro Non ricordo chi fosse lo streamer che faceva da moderatore Però insomma diciamo che è stato tutto molto molto inquietante Ritrovate comunque il commento in un video precedente Vi lascio il link qui sopra Ma voi non volete proprio accettarlo Che il Bavaro è padre Ma tranquilli il test del DNA toglierà ogni dubbio Sì su questo Paolina ha ragione E il test del DNA si potrebbe già fare Perché con le tecniche moderne Il test del DNA funziona addirittura con il liquido amniotico Che può essere prelevato senza danno per il nascituro E' una tecnica relativamente recente Non è costosissima Si può tranquillamente utilizzare E detto fra parentesi Potrebbe anche aiutare in casi più o meno dubbi A evitare equivoci circa la paternità E quindi quando nasce il bambino o la bambina Sai già esattamente chi è il padre I reti regoli di conseguenza E' un test che può essere fatto normalmente Ci si interfaccia con dei professionisti Che controllano la raccolta Io le chiamo fonti di prova Ma all'esterno di un procedimento Non si chiamano così Chiaramente la raccolta del DNA Per il confronto Dei campioni del DNA per il confronto Una volta che ti affidi A dei professionisti seri Che prendono un tuo campione di DNA Prelevano il campione Dal liquido amniotico O comunque sia Dal grembo materno Vengono incrociati due campioni E poi si può tranquillamente vedere Se il figlio è tuo oppure no Naturalmente dovresti essere disposto Anche tu a fare questo controllo Se no A posteriori sarà eventualmente Il tribunale dei minori A costringerti O mettendoti davanti all'alternativa O lo fai Oppure perdi direttamente la causa E lo mantieni lo stesso Il figlio, la figlia, la coppia di gemelli Ma di questa situazione Abbiamo già parlato in precedenza Ora, da queste tre clip Che cosa possiamo imparare e valutare? La prima cosa che salta immediatamente all'occhio È il fatto che praticamente Un certo tipo di attività È stato trasformato in intrattenimento Di bassissima lega Viene addirittura portato avanti Come se fosse una cosa normale Alla luce del sole Va bene che i tempi cambiano Però è anche peculiare il fatto Che persone che svolgono determinate attività Le sponsorizzino così tanto E ottengano un discreto successo Mi risulta che le due calippette Abbiano più di 100.000 abbonati Su OnlyFans O una cosa del genere È un numero enorme Calcolate comunque Che salvo errore di memoria da parte mia Gli abbonamenti sono sui 7 euro mensili 6,99 euro se non vado errato Poi per partecipare al tour Ti chiedono abbonamenti extra Io normalmente per un parere verbale Eventualmente scambiato A debito su YouTube Perché mi risulta comodo così Una quota extra Allora invece pare che Non c'è la prova provata Ma qualcuno postava sui social Delle presunte chat Dicevano Guarda che per partecipare al tour Ti chiedono di sottoscrivere Un abbonamento extra Con 100-130 euro in più Poi se vieni selezionato Ti chiedono un altro abbonamento ulteriore Questa era la voce che girava Sostanzialmente è un'attività Di tipo diverso Rispetto al semplice intrattenimento Ecco O alla divulgazione È più o meno quella roba lì Che è più o meno legale Fino a quando la gestisci tu di persona È strano che abbia avuto così tanto spazio Però magari sono i tempi che cambiano Restano comunque un paio di preoccupazioni Oggettivamente scientifiche e giuridiche La prima è per la salute Il fatto che si verifichino certi incidenti Sulla quale si può anche scherzare Tipo per esempio lo spruzzetto nell'occhio Che ti irrita perché il liquido è gasato Indica che tu non stai utilizzando Le protezioni che dovresti utilizzare Per limitare il rischio di contrarre malattie Brutte, antipatiche e cattivissime E queste protezioni servono in primo luogo a te Ma poi anche per proteggere gli altri che frequenti Oltretutto considera il fatto Che magari qualcuno di questi Come rilevava l'altra calipetta Potrebbe essere sposato Avere dei figli eccetera E anche se involontariamente Chiaramente infettare qualcuno Con delle malattie brutte e cattive Che poi ha altre relazioni Non è esattamente il massimo Perché quello che faresti È diffondere delle malattie La prima regola in questo caso Sarebbe quella di Fare effettuare degli screening E poi utilizzare tutte le protezioni del caso Cosa che qui assolutamente Sembra mancare La prima ha riferito Dell'incidente che ha ottenuto E quel tipo di incidente Capita solo se sei imprudente Non c'è altra spiegazione La seconda ha elencato Una marea di requisiti Per partecipare alla sua attività E mancava il controllo Delle malattie e l'igiene personale Che poi sarò all'antica io Ma sarebbero le prime cose Proprio da controllare La terza Ci è rimasta Asseritamente con il bavaro Quindi È alquanto inquietante Questa cosa Perché vuol dire Che non c'è una cultura Della sicurezza E della salute Personale degli altri Quando svolgi Un'attività di questo tipo Invece La salute tua E di riflesso Anche quella degli altri Dovrebbe essere al primo punto E dovrebbe essere Una condizione non negoziabile Non si rinuncia Alle misure di sicurezza E voi Di tutta questa storiaccia Che cosa ne pensate? Come sempre Fatemelo sapere Lasciando scritto Qualcosa qui sotto Se poi vi piacciono i miei video Ricordatevi di ricompensarli Iscrivendovi al canale Attivando la campanella Condividendo il link al video Con gli amici Che sono interessati alla materia Quando trattiamo di trash Credo che sia abbastanza semplice Quando facciamo geopolitica Un pochino meno E infine Ricordatevi Mi piace Grande Grosso Mi raccomando E fondamentale Per l'algoritmo Per voi sono solo pochi click Ma per il canale Sono importanti Poi Se non farete assolutamente Nulla di tutto questo In un futuro alternativo Remoto E decisamente improbabile Potreste ritrovarvi La calipetta Come insegnante di religione Per i vostri nipotini Io vi ho avvisati Poi fate voi Come sempre Grazie di tutto per tutto E a presto